Sono alla Willis Tower, ti hai scoperto su Elena? A giudicare dal suo profilo, le piacciono i selfie. Eccola che fa la duck face, la sparrow face, e poi ama i suoi gatti. Sì, davvero ti interessa questa tipa inutile? No, devo trovare subito suo zio e lei mi dirà dove cercare. Ok, senti qua. Stamattina ha postato una foto, il suo look di oggi, capelli scuri e occhiali, e ha uno zaino verde. Social media, grazie. È già qualcosa. Continua a cercare. Aspetta. Ma non è una gara. Mi prendi in giro? Sì che è una gara, cazzo. Chi si crede? Ok, Elena. Tocca a te. Pronto? Signorina Tucci, sono il dottor Ayotte del Chicago General Hospital. Abbiamo le analisi del sangue di suo zio Angelo, ma ci ha dato solo il suo numero. Sa dove possiamo contattarlo? È urgente. No, mi spiace. Non lo sento da anni. Ok, grazie mille. Uno, due. Sì. Ciao, ci rendi. Elena, li vuoi i biglietti di un concerto? No, senti, mi hanno chiamato. Mi sa che la polizia ti cerca. Cosa? E tu mi fai una telefonata per dargli una traccia. Riattacca. Centro. Angelo Tucci, dove sei? Ecco di qui. Angelo Tucci. È lui che vide il trasferimento del mio testimone. Lo pagano per l'identità del giustiziere. Vogliono il mio nome. Beh, buona fortuna. Sto iniziando a innervosirmi, Pierce. L'hai trovato? Sto tracciando il GPS. Lo fernerò prima che arrivi alla regione. Bene. Sto iniziando a innervosirmi. Sto iniziando a innervosirmi. Sto iniziando a innervosirmi. Un paio di nemici, anzi direi parecchi, quindi aspettati in quel po' di casino. Il trasferimento è a un lato. Adesso devo entrare nella prigione e fare un discorsetto agli occhi al testo. E' ancora dei contatti in prigione? Ho già chiesto di far scivolare il nostro uomo nella doccia. Sono corrotti, ma non così tanto. Mi faccio arrestare? Beh, certo. Ma che cazzo ti salda in testa? Il testimone che cerchiamo non è nessuno. Era solo nel posto sbagliato. Non cercavami. Non voglio ucciderlo. Solo fargli capire che posso raggiungerlo ovunque e quando voglio. Ottimo piano. Mi piace. Cerco una mappa del posto. Tu entra e poi ti guido io. Ti serve niente? Il telefono. Cristo, ma sei fissato. Devi disintossicarti. Giordi, mi serve il telefono. Me lo toglieranno appena entro. Sì, lo so. Ti prendo in giro. Conosco un tipo. Mi deve un favore. Avrai il tuo telefono. Sì, lo so.